Empoli, parla il tecnico Giampaolo. Lazio competitiva, sarà durissima. L'arrivo di Inzaghi li ha fatto bene. Jingle spot. Agenzia del Mago Alberto, in via Candia 141b. Fantastico bonus di benvenuto sull'apertura del vostro conto online. Intervenuto ai microfoni di Radio Lady, il tecnico dell'Empoli Marco Giampaolo ha anticipato i temi della sfida contro i biancocelesti. Con la Lazio sarà durissima, dovremo fare molto bene. Hanno giocatori molto bravi del cambio di allenatore e potrebbe aver riportato giovamento. Alle parole del mister seguono quelle del centrocampista Marcel Bouchel. Domenica prossima sarà difficilissimo, spiega sulle pagine della Nazione. Loro hanno dimostrato di stare bene ed hanno una squadra molto competitiva. Giochiamo a casa loro e questa è una difficoltà in più. Agenzia del Mago Alberto, in via Candia 141b. Consigli del Mago in sede e schedine già pronte. E giocate per voi. Fantastico bonus di benvenuto sull'apertura del vostro conto online. Agenzia del Mago Alberto, in via Candia 141b. Il posto migliore dove passare alla cassa.